Terzo appuntamento ieri pomeriggio alla biblioteca Pirandello con la rassegna raccontare per immagini arte contemporanea nei luoghi di Pirandello organizzata dal centro studierato diretto da Nello Basili ad esporre il pittore alcamese Peppe Caiozzo. L'artista con i suoi dipinti pur cogliendo nello spazio gli oggetti in un dato momento crea una rivoluzione pittorica facendo vedere la natura e i suoi oggetti come movimento sotto il duplice aspetto in caduta libera e attraverso le percezioni soggettive. Nesce una tecnica compositiva neomonica nel gioco cioè di dati reali ed ombre rispetto all'osservatore. La rassegna gode del patrocinio della biblioteca Pirandello. Il terzo appuntamento dell'anno che noi abbiamo voluto programmare per la biblioteca quindi creare ancora una volta un'occasione artistica da mettere inserire nel nostro programma annuale con degli artisti che manifestano la loro opera e che nello stesso tempo si rifanno alla letteratura. E la mostra di Caiozzo saluta il direttore della biblioteca Carbone che lascia il posto ad Enzo Caruso. Il ritorno al mio posto dove che ero finalmente perché quella è la mia professione di architetto però devo ringraziare tutti i miei collaboratori tutti quanti mi hanno appoggiato da prima all'ultimo senza esclusione di nessuno chi più che meno ma nello stesso tempo sono stati dei bravissimi collaboratori. La mostra resterà aperta fino al prossimo 4 aprile.